...di arrivare giusto sul passaglio e poi farà un'accelerata finale per andarlo a colpire. Ed eccolo qua, preciso il presidente, punteggio zero, penalità! Ecco il secondo che arriva, il paracadutista Bruno, che chiamiamo punta di diamante ma è un po' spuntato, mi hanno detto. E' un po' corto ma ce la può fare lo stesso, ecco la che accelera, è corto! Ciao Leo! ...di stazioni, sempre stazioni di letto. Ecco vedete che sta prendendo la giusta traiettoria. ...vicino, vicino! ... ... ... ... ... ... ... ... ...